Oggi ti presento la mia estensione preferita per ChatGPT. Non pensavo di farci un video, ma negli ultimi giorni si è rivelata veramente utilissima. L'ho usata per farmi dare idee su contenuti da scrivere, per aiutarmi a superare la parte del foglio bianco, quindi darmi una bozza già molto precisa, accurata, utile, di un contenuto che volevo scrivere. L'ho utilizzata per testare idee anche per contenuti al di fuori di siti web, si può usare per creare buyer personas, veramente utilissima, super flessibile, e soprattutto vi risparmia un sacco di lavoro. Quindi ve la faccio vedere subito, ed è questa qui. Si chiama AIPRM, e come vedete dal momento in cui la installate, la interfaccia del vostro ChatGPT cambia in maniera interessante, perché qui non c'è più uno spazio praticamente vuoto, ma ci sono tutta una serie di prompt che voi potete usare per ricevere il contenuto migliore possibile. Infatti la potenza di questo strumento sta proprio qui, sta proprio nei prompt che sono stati costruiti per voi. Che cosa voglio dire? Fare domande a ChatGPT sicuramente a livello basico è facile, ma quando cominciamo a voler fare domande più dettagliate, come in questo caso magari scrivere un articolo che nella SERP superi un altro articolo, quindi nei risultati di ricerca di Google, vogliamo dare tantissimi parametri magari a ChatGPT in modo che ci dia da subito il risultato migliore possibile. Questo non è sempre facile, richiede tanto tempo, tanta sperimentazione. Questa estensione la fa per noi, o raccoglie prompt da altri utenti che decidono di condividere loro in maniera pubblica. Quindi vedete qua potete mettere i vostri preferiti, ci sono quelli verificati, ci sono quelli pubblici, ci sono i tuoi prompt, poi dipende anche dal piano che avete. Io per esempio ho il piano da 50 dollari al mese al momento, che chiaramente stiamo usando al lavoro, quindi giustifica la spesa, e come vedete ho anche questo occhio qui che mi permette di vedere esattamente cosa c'è dietro al prompt che stiamo andando a utilizzare. Quindi probabilmente a video non vi farò vedere tutto quanto, sarà un po' blurrato, perché insomma mi sembrerebbe un po' una sorta di pirateria nei confronti di questo tool, però vediamo l'esempio. Allora, facciamo finta che io voglio utilizzare questo prompt qui, Outrank article, ok? Outrank the competition with an in-depth SEO optimized article. Quindi clicco sull'occhio, e vedendo qui, vedete che c'è un testo estremamente lungo e dettagliato di quello che andremo a chiedere allo strumento. Quindi appunto, magari voi non lo vedete nel dettaglio, però, ecco, si tratta di veramente dozzine di righe che vengono scritte all'interno delle quali, questa parte magari ve la mostro, ok? All'interno delle quali ci sono questi punti qui in cui verranno aggiunte delle informazioni in base a degli input che voi date ogni volta. Quindi, in questo caso, voi potete per esempio cliccare anche su Fork as Private Prompt, in questo caso si creerà una versione privata del vostro template che potete modificare, poi la potete salvare, ok? E facciamo finta adesso di cliccare qui dentro, Outrank article, e vado a mettere il link di un articolo che voglio superare nel motore di ricerca. Quindi, per esempio, andiamo a prendere un articolo a caso, questo qui, che come vedete è un articolo comunque molto molto approfondito, ok? Questo sarà veramente impossibile da scansare a livello di risultati di ricerca e di qualità di contenuto, però ci proviamo. Quindi andiamo qui, mettiamo il link al nostro competitor, possiamo vedere già qui cose interessanti, tipo qual è l'output che vogliamo, in quale tono vogliamo che scriva, queste sono a pagamento, alcune di queste funzionalità, e in quale stile. Quindi, per esempio, possiamo dire scrivi in maniera analitica e come tono vogliamo un tono serio, Visto che si parla di investimenti. Clicchiamo invio e vediamo, qui comincia a generare il testo. Vedete che già sta utilizzando gli hashtag in maniera corretta, quindi il titolo è sformattato in H1, questa parte è H2, come è giusto che sia, e qua invece c'è la parte di testo normale. Io, essendo utente premium, sto usando GPT-4, ma voi potete usare anche GPT-3.5. Quali sono alcune delle limitazioni di questo sistema? La prima cosa principale da sottolineare è che chiaramente la qualità del contenuto può essere decente, ma non sarà mai ottima, ok? Quindi non si raggiungerà mai il livello di insight che si può avere sentendo un esperto. Questo, secondo me, è un ottimo punto di partenza se volete appunto non partire da una canvas completamente bianca, ma volete partire da un articolo già mezzo strutturato, oppure è un ottimo punto di partenza, sì, è un ottimo punto di partenza per quei tipi di articoli che non richiedono un livello di competenza molto elevato. Quindi se vogliamo scrivere, per esempio, su cose binarie, come riempire una bottiglia d'acqua, è un task triviale e fondamentalmente anche l'AI è in grado di spiegarci come fare una cosa del genere, come utilizzare Microsoft Word, come scrivere un nuovo documento su Microsoft Word. Questi sono tutti i tutorial che possono essere creati alla velocità della luce con un modello di questo tipo e che avranno bisogno di pochi aggiustamenti perché appunto ci sarà poco da aggiungere a quello che è già stato detto dal software. In più, se diventate bravi a capire quali domande fare per aumentare la qualità dell'articolo, avrete ancora più informazioni da cui partire. Un altro problema è che non c'è ancora nessun tipo di lavoro che si può fare con le immagini, quindi in futuro forse sì, però al momento non potete facilmente chiedere a ChatGPT di aggiungere immagini al testo. Ogni tanto se riuscite a farmi dare delle tabelle che sono utili chiaramente perché poi aiutano anche a migliorare la qualità dell'articolo, ma non è sempre facile. Quindi da questo punto di vista serve fare lavoro esterno, magari quando rilasceranno anche la parte multimodale di GPT4 al pubblico dando la possibilità di utilizzare immagini ci sarà molto di più anche da questo punto di vista. Poi per quanto riguarda un altro aspetto abbastanza semplice, come vedete ogni tanto si ferma perché magari il numero di token richiesti per completare il processo è troppo alto. Quindi in questo caso possiamo semplicemente dirgli I think you stopped before you were supposed to. Could you please continue? E qui in teoria dovrebbe riprendere da dove ci ha lasciato. Ok sì, vedete qua per esempio non ha completato questa frase qui, non ha capito benissimo, però ha ripreso la lista in maniera corretta, quindi è partito expense ratio, tracking error, liquidity, dividend yield, eccetera eccetera. Quindi qua ci darà un'altra lista. E comunque stiamo parlando di una quantità di testo non indifferente, ok? Cioè c'è ancora tanto da dire e tanto da scrivere. se andiamo su character count, fino adesso stiamo parlando di 570 parole, quindi diciamo metà di un articolo abbastanza approfondito, magari andrà avanti per altre due, tre sessioni e avremo già un qualcosa di discreto. Poi cosa potete fare? Potete andare a vedere l'articolo dei vostri competitor, ok? Quindi in questo caso vogliamo battere il cattivo Mr. Rip e potete andare a vedere ok, quali sono gli H2 che questa pagina ha. Potete anche usare software tipo Surfer SEO o ClearScope per fare questo lavoro in maniera più immediata e su più competitor. Però una volta che avete visto ah, vedi lui ha dei case study, ok? Su questo argomento. Allora possiamo andare dal nostro chat GPT e chiedere mi aggiungi dei case study, mi aggiungi degli esempi oppure magari qua lui parla di di TER Total Expense Ratio. Possiamo andare da chat GPT e chiedere puoi aggiungere una sezione sul TER? Mettici degli esempi o cose di questo tipo. Quindi veramente devo dire un acquisto di cui sono soddisfatto. Ecco, vediamo qua scritto la conclusione. Se andiamo a aggiungere la conclusione all'articolo vedremo che questo diventerà un articolo più o meno di mille parole circa. Esatto, 985 precise. E ecco sì, non potete vedere qua a schermo e possiamo fare un lavoro di questo tipo. Quindi vediamo se per esempio ha parlato effettivamente di TER. Mi sembra di no, ok? Quindi noi andiamo a prendere quello che dicevamo prima Total Expense Ratio. You did not talk about Total Expense Ratio. Could you please add a section about it where you explain what it is and why it is important. e lui continuerà seguendo lo stesso formatting di prima tra l'altro vedete qua in H2 a scrivere su questo argomento. Poi altre considerazioni da fare sicuramente mettendo questo test all'interno di un AI detector ci potrebbero essere alcune sezioni che sono considerate facilmente identificabili come scritte da un AI quelle sono cose a cui fare particolare attenzione non tanto per i segnali che mandiamo a Google anche se lì pure ci sono delle attenzioni da fare ma potenzialmente anche perché è un segnale che quel contenuto lì non è di altissima qualità ok? Poi io comunque a prescindere vi consiglio di o fare una revisione voi o comunque avere le persone che normalmente scrivono gli articoli ripartire da questa base per fare un qualcosa di più completo però capite che partire già da una base di questo tipo vi permette di fare tantissimi passi avanti cioè si salta tutta la parte iniziale del ok su cosa scrivo ma si può andare a lavorare più sul ok fammi aggiustare quello che ho già ci sono poi temi su cui è più facile farlo questo è un tema molto complesso su cui magari chiunque scriva ha più voglia di crearsi una struttura da solo però ripeto se parliamo di temi semplici temi su cui il tutorial è molto più strutturato allora assolutamente diventa un'opzione ancora più interessante quindi vi faccio vedere un altro paio di prompt carini per esempio potete creare questa leggenda per buyer persona potete creare script per youtube potete qua dicono creare un libro in un click ok devo vedere come funziona e comunque in generale ci sono 2500 prompt quindi sicuramente tanto tempo per divertirvi un altro carino è questo manfully calendar content calendar in un click quindi noi possiamo dire guarda voglio avere un calendario editoriale dove parlo di facciamo finta ergonomic mouse e lui andrà a crearmi questa tabella con all'interno tutta una serie di articoli ok mi dirà anche i giorni in cui scriverli tutta una serie di articoli che sono rilevanti per un blog che parla di mouse ergonomici un sito che parla di mouse ergonomici quindi vedete qui in 25 secondi 30 secondi mi ha dato 12 idee anzi una e meno qua non so perché non so che è successo comunque mi ha dato 11 idee di potenziali articoli che potrò scrivere quindi i migliori 10 mouse ergonomici da usare in ufficio come scegliere il miglior mouse ergonomico per la tua postazione mouse ergonomico contro mouse normale quale è meglio per te l'importanza di un mouse ergonomico per un gamer ok anche se mi sembra strano cioè questi due si vede che non sono forse troppo rilevanti magari esistono magari c'è mercato anche per questa roba mi sembra mi sembra un po' strano vediamo vediamo un po' che esce fuori se mettiamo qui facciamo un po' di ricerca ok a quanto pare c'è qualche gamer che sceglie i mouse ergonomici per il gaming ma mi sembra veramente mi sembra veramente strano ok quindi questi due articoli mi sembra un po' fuori posto ma anche se magari il 50% dell'output poi va scartato capite che questi primi due articoli vanno benissimo e sono ottimi spunti per carità semplici però non abbiamo dovuto pensarci troppo anche questo è molto interessante no ergonomic mouse contro trackpad come prevenire infortuni legati al mouse come comprare un mouse ergonomico per mani piccole quindi queste sono tutte cose che come articoli hanno un senso e poi possiamo andare a copiare magari il titolo e chiedere a altri prompt di questa estensione di scriverci un articolo intero quindi io spero che questo video sia stato per voi utile e interessante non inondate google di schifezza con questa roba ma usatela per velocizzare il vostro workflow per farvi venire nuove idee usatelo un po' come un coworker con cui scambiare fare un po' di brainstorming questo secondo me è il modo migliore e poi usatelo come modo per velocizzare la parte di creazione dei contenuti io come al solito vi ringrazio molto per aver seguito questo video fate le solite cose che vi chiedono di fare i youtuber mettete mi piace iscrivetevi la campanella insomma con le robe là e noi come al solito ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao